Ciao a tutti ragazzi, sono Doventor Magic, oggi finalmente siamo arrivati ai 100 iscritti. In tutto, volevo ringraziarvi e augurarvi la buona visione di questo video. Eccoci qua ragazzi, adesso vi annuncerò le piccole sorprese che ho fatto, cioè che ho preparato. Allora, prima di tutto, volevo annunciarvi che ho preparato un pacchetto sulle modi di Minecraft, nel senso che, come sorpresa per le persone che amano nel mio Minecraft, cioè almeno noi che giochiamo, eccetera, ho preparato un pacchetto, però, magari come molti penseranno, io volevo pubblicare il pacchetto in questo video, però ho pensato bene di farvi dire nei commenti le mod che volete mettere in questo pacchetto, perché ho già implementato svariate mod, però non si sa mai, ci sono persone che hanno gusti diversi, potrei fare più punti Minecraft, eccetera, più pacchetti, insomma. Allora, quindi a settembre, quando tornerò dalle vacanze, vi pubblicherò il pacchetto completo, con tutte le mod che avete inserito, oppure più pacchetti, eccetera. E poi dopo, per Cashew Clans, ho preparato un'altra piccola sorpresa, che vi mostrerò adesso. Un attimo. Guardate, questo è un iPhone, perfetto. Allora, volevo farvi vedere, guardate che bella la cover, vabbè. A parte questo, come vedete qua, il mio iPhone 4S, c'è Cashew Clans, e volevo ricominciarli insieme a voi, e a settembre, sempre, ricominceremo la serie di Cashew Clans. Allora, praticamente, nella nuova serie, quale sarebbe bello di seguire questa serie, perché immagino che voi direte a noi che ci può importare, se te ricominci la serie, ricominci Cashew Clans. Allora, ricominciando Cashew Clans, guardando i miei video, ovviamente, gli aggiornamenti li farò sul nuovo, ma anche sul vecchio, cioè farò vedere un po' anche, magari, la differenza, eccetera. Nel nuovo Cashew Clans, li vedremo, con gli ultimi aggiornamenti, cosa hanno cambiato all'inizio, e poi, comunque, vedrete come avrà iniziato Cashew Clans, senza errori, sapendo quello che dovevo fare. In più, adesso ho creato anche un video speciale, con le foto di Minecraft, di Cashew Clans, che saranno le serie principali del mio canale, dove vi mostrerò dei momenti, dei momenti clou, o comunque delle parti che considero da far vedere, insomma, della mia iscrizione, ma anche prima della mia iscrizione in YouTube. Volevo anche ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo canale, cioè The Mausen, The Volker 65, Appaste 67, Max 129, Su Fratello, poi, quelle che mi vengono in mente, sì, quelli che verranno nei video che vedrete poi in futuro, perché sono già pronti, quindi vi posso dire i nomi, che sarebbero Lollo e Italia 99. Vabbè, poi, ovviamente, ringrazio anche voi, piuttosto ringrazio voi che mi seguite, voi che mi aiutate con i vostri commenti, e vi scongiuro di aiutarmi ancora e seguirmi. Quindi, buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!